Dov'è? No, è qua! Queen, dov'è? Brava! Ciao a tutti amici, bentornati nel mio canale, io sono Marta Rossi e sono sempre in compagnia della mia piccola cagnolina Queen che oggi è protagonista del video, infatti non apriamo una casellina dell'avvento perché come avete potuto vedere, anzi leggere dal titolo del video Queen mangerà, se sarà brava, un bel po' di premietti. Prima di tutto volevo ringraziarmi perché come vedete l'albero è pieno di regali, tutti che vengono da voi, quindi grazie e verranno aperti in un video live, in una diretta live o il 25 o il 24, non so, insomma un giorno particolare subito dopo Natale apriremo i regali insieme a voi, sia io che Luca. A proposito di regali, io oggi ho qui due, guardate, vasetti che non so se avete seguito le mie storie di Instagram ma vi lascio anche il mio Instagram così potete andare a vedere perché le avevo salvate in una, tipo in una, delle storie in evidenza su Queen comunque io avevo creato questi due barattolini personalizzati dove c'è scritto dog e qui c'è il cuoricino proprio per Queen e le avevo fatti io perché mi piaceva colorare il tappo, il tappo non mi piaceva perché era tipo dorato, non era bello io l'ho colorato del mio colore preferito e il giallo è anche, eccolo qui, il turchese, il turchese, sì, è azzurro, celeste, insomma color Tiffany praticamente Queen, questo è tuo, tu lo sai che è tuo Cosa succede? Io oggi vi farò vedere un gioco che potete fare anche voi con i vostri cagnolini Queen non so se è così brava, anzi io comincio prendendo uno di questi che sono i tuoi preferiti e prendete una crocchettina e la mettete in mano la cambiate, la cambiate, non sapete dov'è la crocchettina e lei deve indovinare appunto dov'è la crocchetta è un giochino che comunque le aiuta molto, vedi un po' se è intelligente, quanto è intelligente Queen è molto più affamata perché lei per il cibo farebbe qualsiasi cosa, cioè lei non ha proprio il senso di sazietà si potrebbe mangiare qualsiasi cosa e a proposito di questo, e io sono cattiva perché ti faccio girare tutta questa cosa qua e tu non lo sai ma a proposito di questo, un giorno quando io abitavo a Roma ho lasciato questa, eh lo so che le vuoi adesso vi spiego, piano piano prima mangialo così intanto racconto avevo lasciato queste crocchette di pollo del Mac che mi erano avanzate perché avevo preso tipo il pacco da 20 ed erano avanzate, la mattina dovevo buttare questa spazzatura sono uscita di casa a Roma perché non mi sbaglio avevo un casting qualcosa, non mi ricordo, però comunque dovevo andare al teatro Sistina, me lo ricordo ancora sono ritornate e ho trovato questo esserino con le zampe per terra così, la pancia pienissima perché si era mangiata i polletti del Mac con la salsa barbecue scartata e ben finita cioè era nuova praticamente la scatolina dove c'era la salsa barbecue ho telefonato subito al veterinario perché comunque mi sono spaventata questa non camminava più, sembrava agonizzante con il cibo e le ho dovuto togliere l'acqua per un giorno e mezzo perché non doveva bere perché sennò si gonfiava ancora di più ed è rimasta così a digiuno per dei giorni perché aveva fatto la cattivella ma è una cosa risaputa di Queen che cerca nella spazzatura e a proposito di questo vi faccio vedere questo video a proposito di questo video Cosa stavi facendo Queen? Cominciamo con il nostro gioco del chi indovina il premietto dai prendiamo questi che so che sono i tuoi preferiti indovina dove sta il premietto Queen tu devi essere brava e capire prima di tutto Queen dovete sapere che se io prendo la mano la chiudo e faccio così Queen mi dà la zampa perché pensa che ci sia una crocchetta dentro ma non è così perché devi essere brava tu Queen a capire dove si trova il premietto vediamo un po' vediamo un po' dov'è il premietto? sbagliato! 1 a 0 per la mamma eccolo qua è qui Queen quindi vediamo un po' se lo indovini dov'è il premietto? no Queen è ancora qui 2 a 0 per la mamma devi impegnarti non è possibile che sbagli ogni cosa ricominciamo eh no tutte e due no dove si trova? no è qui devi odorare Queen lo vedi dov'è? eh sì la mamma lo nasconde in questa mano dov'è? no Queen no ma guarda che se arriviamo a 10 non ne mangi neanche una di queste croc indovina indovinello dove si trova? sei sicura? eh lo sai che qua te lo do però non sei stata brava caspita Queen sbagli tutto sei una frana ecco la croc Queen mi raccomando tutto è nelle tue narici no Queen ma non è per niente un cane da tartufo cioè non sarebbe capace com'è possibile? era nell'altra mano Queen è il 5 a 0 per la mamma stai perdendo clamorosamente ricomincia dov'è? brava prima qua hai detto ma è stata fortuna la tua però un punto per Queen glielo diamo brava dov'è? no è qua Queen lo vedi? dov'è? no è qua Queen dov'è? brava eccolo lo vuoi? caspita Queen dov'è? dov'è? no Queen stai perdendo clamorosamente è qui è in questa mano lo metto qui guarda no devi indovinare facciamo che mi metto giù indovina Queen brava brava amore dov'è? dov'è Queen? dov'è? no devi odorare no dov'è? no guarda dov'è guarda dov'è dov'è? brava niente non ha capito neanche con il cibo capisce comunque Queen hai perso clamorosamente clamorosamente a mamma hai perso anche sul cibo mi hai fatto sfigurare bacini perché tutti Queen va in ansia è proprio come me va in ansia la prestazione non riesce più a fare niente grazie ragazzi per essere stati con noi anche in questo video spero vi sia piaciuto vi abbia divertito ci vediamo al prossimo video ricordate di mettere un pollicino su fatelo per Queen attivate le notifiche cliccando sulla campanella lasciate un commento per Queen perché poi io glieli leggo tutti vero Queen? e sono arrivati dei regalini anche per te della lista desideri grazie mille ci vediamo presto al prossimo video ciao sei una frana Queen hai sbagliato tutto tutto a mamma tutto io te ne do un altro però hai sbagliato tutto mannaggia di tutto hai sbagliato ciao 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 ciao